Dopo l'avvento della sperimentazione 5G in corso, è sempre di più presente nella cronaca un argomento che sembrava sopito, quello delle antenne. In questo caso invece parliamo di Burano, quindi nella delicata zona lagunare. In questo caso si chiede chiarezza a proposito di un regolamento che è fermo addirittura dieci anni fa. Difficilmente, se non forse mai, a Burano avevano visto carabinieri schierati in assetto antisommossa. Li hanno visti la settimana scorsa per escortare i tecnici di una compagnia telefonica mobile addetti all'installazione di un'antenna poi sospesa ed ora in attesa di un nuovo incontro tra il Comune e la multinazionale di telefonia per decidere come procedere. Ma la vicenda di Burano ha sollevato secondo il Movimento 5 Stelle una questione estremamente più ampia del caso specifico, cioè quella di un regolamento comunale in materia fermo al 2007 e inadatto ai tempi. Non abbiamo un regolamento efficace, cosa che invece hanno altri comuni, per esempio il Comune di Molliano dove risiede il nostro sindaco. Ciò comporta che diventi il territorio terra di conquista per quanto riguardano i gestori e le installazioni per le basi radio e di telefonia mobile. Il Movimento 5 Stelle ha presentato un'interrogazione a Caffarsetti proprio per chiedere quali siano le intenzioni dell'amministrazione nei confronti di una materia che andrebbe riregolamentata al corso coi tempi e con l'evoluzione della tecnologia, ma anche su quale sia stata la gestione del Comune nel caso specifico dell'antenna di Burano. Se sono state rispettate tutte quelle normative che riguardano la trasparenza e la possibilità dei cittadini a poter accedere alla documentazione e quindi di poter obiettare o comunque fare delle osservazioni per quanto riguarda la possibilità di installazione di un'antenna. L'acronimo è orribile, PEBA, sta per piano di eliminazione delle barriere architettoniche. La vicenda invece è importante perché è lo studio che in questo caso la città di Padova ha fatto per permettere una viabilità a misura di tutti nella propria città. Le prime leggi per l'abolizione delle barriere architettoniche risalgono al 1987. Finalmente dopo 32 anni Padova ha adottato il suo piano comunale per eliminarle. Non che dal 1987 a oggi in città non si sia fatto nulla ma si è anche costruito senza tenere conto delle esigenze dei diversamente abili, delle persone con disabilità sensoriali, degli anziani con difficoltà nella deambulazione, delle mamme e i papà con passeggini e di tutti coloro che magari anche temporaneamente faticano a muoversi in autonomia. È stato fatto un poderoso lavoro di mappatura delle barriere architettoniche all'aperto e negli edifici pubblici con la collaborazione delle consulte e delle associazioni. Ma il piano o PEBA non è solo questo. Un insieme di norme che aiuteranno l'amministrazione comunale a seguire criteri per realizzare la città accessibile. Quando si sistema un marciapiede, quando si realizza o si sistema un edificio, andiamo a fare degli interventi nelle scuole, fare un lavoro perché sia accessibile non costa di più né di meno. Basta seguire delle norme alle quali dovranno attenersi anche i privati, come in un piano regolatore, precisa l'assessore. Quanto costa oggi eliminare le barriere esistenti? 60.000 euro al chilometro è la stima dei tecnici comunali che hanno rilevato come su 39 chilometri di marciapiedi mappati, un chilometro e mezzo di questi siano del tutto inaccessibili e 17 accessibili solo in parte. 229 gli ostacoli incontrati, inaccessibili un terzo dei raccordi pedonali, pericolosi rialzi soprattutto per i non vedenti e quelli in pendenza per gli anziani con il deambulatore. Il piano avrà validità decennale. Tutt'altro discorso, come è venuto fuori anche dalla mappatura che abbiamo fatto, è quello che si può fare per chi non conosce la città e poi per le disabilità di tipo visivo in particolare, per le quali invece non è stata posta altrettanta attenzione e quindi questo può costituire un problema in più. Una prescrizione ministeriale riapre la possibilità dei voli su Treviso, questo per quanto riguarda l'aeroporto Canova che come sapete è sempre più importante, di fatto il secondo aeroporto di Venezia che serve una gran parte del Veneto. La commissione di valutazione dell'impatto ambientale del Ministero legittima i voli su Treviso e riapre un capitolo che il capoluogo riteneva chiuso. Sulla città potrà decollare previa autorizzazione fino al 21% dei voli giornalieri, ma cosa questo significa sarà ora oggetto di verifica, spiega l'assessore all'ambiente Alessandro Manera. Il nodo da sciogliere è essersi tratti di una quota fissa, quotidiana, che significherebbe oltre 2000 voli l'anno o di una soglia consentita solo al bisogno. Avendo deliberato la commissione via nazionale, recependo la commissione via regionale, dovrebbero essere limitati da fattori da valutare di volta in volta. Rispetto ad adesso cambierà che è stato fissato un tetto massimo di voli di decolli sopra Treviso, quindi il 21%, ma dobbiamo ancora rispetto alle carte che abbiamo ottenuto valutare esattamente quanto e come sarà valutato questo 21%. Per Cassugana in realtà le carte arrivate da Roma contengono una parziale vittoria. Siamo molto felici perché abbiamo visto che la commissione via nazionale ha recepito in toto, lo indica chiaramente, tutto il parere fatto alla via regionale su cui noi avevamo inciso in maniera pesante e soprattutto su quello che riguarda i monitoraggi post operam, monitoraggi ambientali. Questo non era mai stato indicato e quindi è un grande traguardo per Treviso ma per tutti i comuni limitrofi. In più è stata indicata come opera prioritaria la passare alla pedonale che ridurrà di molto l'incidenza del traffico stradale davanti all'aeroporto. Resta da capire il significato di quel 21% di decolli consentiti che se preso alla lettera da Enac inficerebbe lo sforzo del Comune di far passare i decolli sulla città come eventi straordinari giustificati solo dalle condizioni di vento contrario. La nostra richiesta era stata di limitarli solo alle condizioni climatiche avverse, quindi condizioni particolarissime. Però ripeto, nella commissione via nazionale vengono indicate le modalità per valutare questi voli e quindi adesso faremo tutte le analisi del caso e in caso proporremo delle alternative rispetto a quello deliberato dalla via nazionale. Le fusioni tra i vari servizi dei comuni, quando anche addirittura magari dei comuni stessi, sono importanti ma sono anche estremamente delicate, si scontrano contro incappanilismi e qualcosa appunto era accaduto nell'alta Padovana con fusioni andate non propriamente bene. Carmignano di Brenta ci riprova. 7.700 abitanti a Carmignano di Brenta, 8.100 a Fontaniva per un totale di quasi 16.000 persone sotto il segno dell'Unione Montana della Brenta, nata già nel 2015. E il punto della situazione stamane è con il vivo desiderio di un rilancio dell'Unione stessa che vorrebbe avere esito più felice di quanto toccato a Gadone che è medio Brenta o Piazzola sul Brenta. Altro punto il desiderio di allargare il numero di comuni sotto lo stemma dell'Unione estendendo l'invito ad esempio anche a Gran Torto, San Pietro in Guga, Zopadovano pur mantenendo l'unicità e le diverse identità superando quindi le logiche di partito. Essendo liste civiche non rispondiamo a nessuno se non ai cittadini che ci troviamo ad amministrare e quindi abbiamo anche le mani più libere sul fatto di poter dialogare con tutti. Dal punto di vista dell'Unione sì, ce la troviamo fatta però è senz'altro una cosa che vediamo come una potenzialità, una potenzialità per crescere, per fornire ai cittadini di servizi integrati in una logica che non sia più campanilistica quindi rinchiusa nel singolo comune ma che guardi ad una visione più ampia. L'Unione va ad incidere su diversi servizi. Servizi molto importanti come i lavori pubblici, le opere pubbliche, le edilizie scolastiche, i servizi scolastici, la protezione civile e il controllo di gestione che facciamo in unione per i due comuni sia di Carmina di Brenta che di Fontaniva e incide sullo sviluppo economico cioè su tutte quelle possibilità e quelle attrazioni e investimenti che possiamo portare, che potremmo portare, che abbiamo già portato nei nostri due territori. Io mi auguro che nel futuro, e questo sarà l'impegno che ho da Presidente neonominato ieri sera, sarà quello appunto di allargare queste prospettive per dare anche all'area del Cittadellese e del Piazzolese insomma delle opportunità in più. Ci fermiamo per una pausa.